Nel primo tempo, al quattordicesimo, i padroni di casa passano in vantaggio con un bolide di McIlroy, che batte Bugato sbilanciata e segna il 2 a 0. Il quundicesimo di una clamorosa papera del portiere Apriciard. Illa, y iiii, iiii, iiii. Erii, iiii. Todos están por el área, abre listo para el penal, va a ejecutarlo. Illa in favor a Gallet�, le nota a Damasio. Hay un cachet de la dirección de la velocidad, sigue esperando, va a tirar tira sobre el arco, iiii. Illa avanzando, sobre el centro, trata de llegar a Gaffaldés porza, a Hernández, Illa avanzando, va a tirar tira, y iiii. Per tutti i ragazzi, Marcus Berg, le Bonucci. Oh, è stato davvero, è stato davvero. Ma i suoi due, che vanno a zero e che vanno mettere tutto. Bello spiegato, bello spiegato. E qui abbiamo il salato. Qui abbiamo il Sergio Concesano del FC Porto. C'è stato davvero, la rote Karte. Girsten, un paolo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti